Ciao a tutti ragazzi! Buongiorno in questo nuovo video quello era il trailer dell'anno 2022 dell'albero che si muove non me ne ho d'accordo adesso io adesso ti caccio fuori di casa ti ero alleato a quelli lì che sono buttati fuori guardate cosa ha fatto mi ha aperte tutte le caselle del calendario ma sei matto? io questo è un orancio ok non si fa non si fa ti prendo eh ti prendo dalla coda dalla rosa adesso te ne vai perchè verrai bullizzata visto per tutto quello che ne hai toccato ragazzi fate una bella cosa lo dobbiamo notare perchè lui me ne ha fatti tante l'anno scorso e non lo dobbiamo più vedere adesso lo sistemo io guarda guarda cosa mi ha rubato anche la fenda marrone no guardate cioè però io io ti lancio non lo stai lo stai lo stai lo stai lo ti lancio basta ragazzi oggi adesso questo lo metteremo in chiude in camera mi vedo cosa ha fatto i miei amici perchè li ho alleati di nuovo quindi a lui quindi a lui lo metto qua te lo fai qua e non ti apro basta voglio controllare cos'è ragazzi guardate cosa ha fatto il mio amico è tipo rinchiuso qua anche lui è l'unico guardate ragazzi guardate cosa ha fatto gli altri adesso mi vendicherò però devo liberarmi liberiamoli liberiamoli poverino vieni vieni ok uno per lato uno per lato ecco come si riconforte ecco ecco riconforto vieni aiuto ok voi siete di là è sicuro guardate andate mi vendicherò ragazzi succederà un casino ma io mi vendicherò a cosa ha fatto gli amici come ha fatto gli amici gli amici adesso guarda che ho visto tutto questi come li chiami guardate sono questi questi come li chiami dove li hai trovati erano miei questi erano miei ti rendi conto di quello che fai adesso ragazzi devo fare una cosa bruttissima io farò un sacco di male a lui però è una cosa per liberarmelo perché se io lo mando via di casa lui ritornerà il prossimo anno quindi delle belle manate sciarpate cappellate per la merita un sacco di male a lui un sacco di male a lui ragazzi io l'ho sterminato l'albero ok guardate adesso l'albero che si muove 2.0 ciao brutto fallito ragazzi me ne sono liberato le sue pallette te roccate no non ne vuoi ragazzi ho fatto tutto allora vi ho rivelato che adesso andassi senza pace nel villaggio vai vai rena e te anche ok ragazzi per questo video è tutto ciao buoni amici per tutti nel regno è l'albero che ti muove lì in chiudo e da me ciao ciao